Con i bambini non si scherza. Sono forti le parole di Papa Francesco all'udienza generale in Piazza San Pietro. Ricorda le storie di passione che molti di loro vivono. Ogni bambino emarginato, sottolinea, è un grido che sale a Dio e che accusa il sistema che abbiamo costruito. Nei paesi poveri spesso i bimbi sono preda di chi li sfrutta, di chi li addestra la guerra, ma anche nei paesi ricchi vivono in condizioni disumane, vittime di unioni immature e separazioni irresponsabili. Subiscono poi le conseguenze del lavoro precario e malpagato. Sono infanzie violate nel corpo e nell'anima. Nessuna delle loro lacrime va perduta, dice il Papa, come neppure la nostra responsabilità. Il pensiero di Francesco va anche ai genitori che hanno figli con difficoltà. Non vanno lasciati soli nella loro fatica, ma accompagnati in momenti di gioia condivisa. La Chiesa ha il compito di mettere la sua maternità a servizio dei più piccoli perché nessuno pensi di essere uno sbaglio, di non valere niente, di essere lasciato alle ferite della vita e alla prepotenza degli uomini. Non scarichiamo sui bambini le nostre colpe, per favore. I bambini non sono mai un errore. La loro fame non è un errore, come non lo è la loro povertà, la loro fragilità, il loro abbandono. Semmai, questi sono motivi per amarli di più con maggiore generosità. Che ne facciamo delle solenni dichiarazioni dei diritti dell'uomo, dei diritti del bambino, se poi puniamo i bambini per gli errori degli adulti?